carissimi pace pace del signore buona giornata a tutti quanti voi oggi 18 giugno spero che stiate tutti quanti bene sono le 7 del mattino e vi invito ad aprire la vostra bibbia insieme a me nell'epistola agli efesini al capitolo 1 al verso 21 l'apostolo scrive ispirato dallo spirito santo infatti per me il vivere è cristo e il morire è guadagno cosa voleva dire l'apostolo paolo in queste parole stavo un po riassumendo la sua filosofia di vita rifacendosi a due esperienze per le quali tutti dobbiamo passare la vita ed è quello che noi stiamo gustando in questo momento è la morte che è qualcosa che riguarderà tutti quanti gli uomini prima o poi a meno che il signore a meno che il signore non torni e quando lui torna noi siamo in vita in quell'ipotesi infatti come abbiamo detto anche altre volte ma in fin dei conti come scritto nella parola di dio saremmo trasformati in un batter d'occhio e non passeremmo per la morte vivere quindi l'esistenza è qualcosa che l'apostolo paolo dopo la esperienza fatta sulla via che lo conduceva a damasco divenne un tutt'uno con cristo gesù paolo si definirà in modi diversi schiavo di cristo apostolo di cristo prigioniero di cristo ed evidenzierà in tutti i modi possibili il fatto che egli si identificava col suo salvatore tant'è che a un certo punto arriverà a dire non sono più io che vivo ma cristo vive in me e quella dichiarazione dovrebbe essere il punto di arrivo per ognuno di noi perché l'apostolo stesso scriverà che noi dobbiamo raggiungere la statura perfetta di cristo il che significa che come dirà giovanni ognuno di noi deve diminuire e il signore deve crescere in modo tale che alla fine non ci siano più i nostri pensieri i nostri desideri ma quelli di cristo e della santa e benedetta parola di dio e quindi ognuno di noi deve considerare questa realtà se per paolo il vivere era cristo lo stesso deve essere per noi la nostra vita infatti non la possiamo più vivere secondo i nostri propositi e il nostro modo di vedere le cose perché non apparteniamo più a noi stessi se abbiamo accettato cristo infatti siamo stati acquistati da dio perché egli ha pagato un prezzo cristo gesù e questo prezzo che gli ha pagato gli deve dare il pieno diritto di controllare la nostra vita e di indirizzare i nostri passi allora quando noi infatti recalcitiamo contro il pungolo della parola di dio e cerchiamo di imporre la nostra volontà al signore noi stiamo venendo meno a quell'impegno che abbiamo preso quando siamo scesi nelle acque battesimali e cioè di rinunciare a tutto ciò che riguarda questo mondo per seguire l'impulso e la guida dello spirito santo fratello sorella quanto tempo il signore ti sta parlando e sta cercando di correggere i tuoi passi si saggia si saggio ascolta lo spirito di dio permette al signore di guidare i tuoi passi affinché anche per te il vivere possa diventare cristo e la sua volontà possa diventare la tua volontà e per la tua vita ci possono essere non più i propositi che avevi prima di conoscere la grazia di dio ma quelli che vengono messi da parte dello spirito santo del signore vivere quindi ma anche morire è qualcosa dicevamo che riguarda tutti gli uomini a meno che non siamo in vita al ritorno del signore e il morire non viene visto dall'apostolo paolo come qualcosa di terribile di angoscioso di pauroso viene definito addirittura un guadagno e lì per lì forse potremmo rimanere perplessi o potremmo pensare che si tratta di un'esagerazione di un discorso valido da un punto di vista teorico ma l'apostolo paolo lo dimostrò praticamente non ebbe paura di rischiare la sua vita appunto perché considerava il morire un guadagno anche allora quando un profeta agabo gli disse chiaramente che andando a gerusalemme si sarebbe trovato nei guai egli andò lo stesso a gerusalemme si oppose a tutti i suoi amici cristiani che volevano impedirgli di farlo perché per lui il morire era guadagno e in che cosa consiste questo guadagno beh consisteva nel fatto che innanzitutto non avrebbe avuto più un corpo che lo faceva soffrire sarebbe consistito nel fatto che finalmente avrebbe potuto riposare di tutte le fatiche sarebbe consistito nel fatto che tutto quello che stava patendo avrebbe cessato e sarebbe andato in un luogo di attesa della resurrezione del corpo per poi vedere e contemplare il signore in tutta la sua gloria non avrebbe dovuto più attendere di essere nuovamente rapito fino al terzo cielo per poter gustare esperienze straordinarie tutto sarebbe diventato straordinario sì per il credente il morire è un guadagno il che non significa che noi desideriamo la morte o cerchiamo la morte perché la morte è qualcosa che Dio deve stabilire riguardo al giorno e all'ora noi cerchiamo la vita perché per essa siamo programmati ma non abbiamo più paura della morte perché non temiamo più un giudizio ma aspettiamo di essere accolti nella gloria di Dio e allora in questo nuovo giorno che abbiamo dinanzi a noi vogliamo far sì che il tempo speso possa essere speso facendo la volontà del signore non si tratta soltanto di pregare o di leggere la parola di Dio di andare in chiesa certo queste sono parte del nostro vivere in Cristo si tratta di una condotta improntate ai principi della parola di Dio se qualcuno ci offenderà dovremo essere pronti a perdonare se qualcuno ci chiederà aiuto dovremo essere pronti a stendere la mano se qualcuno si troverà nel bisogno dovremo essere pronti a consolarli vivere in Cristo significa imitare Cristo in tutto e per tutto e poi i cari non dobbiamo vivere nell'angoscia della morte ma dobbiamo essere sereni nel fatto che essendo in Cristo qualunque cosa dovesse capitare noi siamo attesi da una gloria eterna nella quale entreremo allora quando il signore ci chiamerà nella sua presenza che Dio ci accompagni ancora oggi aiutandoci a vivere in Cristo e liberandoci da ogni paura o da ogni timore sapendo che nel signore noi abbiamo pienezza ed ogni cosa di cui abbiamo di bisogno che Dio ci accompagni ancora oggi pace del signore a tutti quanti voi